E' così, non lo so cosa dobbiamo fare, non lo so. Siamo stanchi tutti e tenuti, siamo stanchi, vogliamo andare nella nostra casa. Il dispiacere e la rabbia rignano negli occhi e nelle parole di coloro che vorrebbero solo poter ritornare a casa. Ne abbiamo bisogno, ci dicono coloro che sono stati sfollati dopo l'alluvione del 2012, che ha provocato il crollo di un tratto delle mura cittadine. Quando vi hanno mandato via di casa? 17 di novembre 2012. Quindi è tanto tempo? Dove abitate adesso? Uno, un giorno fa, c'è la latta, l'affitto è il paio in comune, le bollette le devo pagare tutti io. Che cosa si augura signora, che cosa spera? Speriamo che ce la facesse questa casa, accomodare, siamo stanchi di stare, là è sempre freddo, noi siamo anziani, vogliamo andare nella nostra casa e basta. Siamo fuori casa da due anni, abbiamo bisogno della nostra casa. Qui ci sono diversi problemi da affrontare, uno di questi è tutelare le famiglie. Sì, quello è il problema principale per dare risposta a quelle famiglie che oggi hanno esposto gli striscioni e che sono sfollate da quasi due anni. Quella è la nostra preoccupazione principale. Io mi auguro che questa manifestazione serva a qualcosa e che si vedano i risultati prima possibile perché se entriamo nell'inverno non solo questo muro ma tutta la cinta murale della piazza sicuramente sarà a rischio caduta e quindi con le conseguenze di tutte le case che ci sono all'interno del centro storico. Non abbiamo nessun vincolo con nessuna associazione e nessuna consigno attuale o anche col precedente, per noi sono tutti uguali. L'importante è che loro ci seguano su questo percorso e noi li affianchiamo in tutti i modi.